A papà fa una cortesia, va sulla signora che fate dare una scaletta, va Signora, la cortesia metti, che mi può dare una scaletta se va a papà? Chi è? Eh, non c'ho il tiro sta legnale, non si fa legnale. Ha detto sta legnale che ti dà la scaletta. Che? Ha detto lo stale che ti dà la scaletta. Io non ti capisco il nome. Ha detto legnale che ti dà la scaletta. 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 Io non ti capisco. Eh, ma non c'è no, eh. Ma non ti dà la scaletta. Ma non ti dà la scaletta. Non ti dà la scaletta. Ah, ma non ti dà la scaletta. Allora. Grazie.